reparative shampoo e conditioner protezione colore per capelli danneggiati molto trattati da colori o decolorazioni e con doppie punte la linea reparative è formulata con la tecnologia avanzata recovery c'è una miscela di proteine fortificanti tra cui peptidi amminoacidi agenti condizionanti questi prodotti stimolano il rinnovamento cellulare riparano i danni del capello e nutrono le parti più deboli per capelli levigati morbidi e sani se la sua formulazione naturale la linea repair di alox riduce il rischio di rottura del capello studi clinici dimostrano che rinforza e migliora la struttura del capello dell'87 per cento in più rispetto alle altre linee sul mercato split and men's il siero per le doppie punte della linea repair sigilla le doppie punte e rinforza le lunghezze diminuendo il rischio di rottura dei capelli applicalo su capelli puliti e ben tamponati e procedi con l'asciugatura è un siero leggero e che non unge in caso di capelli molto danneggiati puoi applicarlo ogni mattina sulle lunghezze punte prima di pettinare i capelli prima di pettinare i capelli prima di pettinare i capelli